Le porte hanno quattro porti. La prima porta si chiama Akepo, la seconda porta si chiama Suresbo, porta del sole, perché dentro è un piccolo tempo del sole, la terza porta si chiama Ganesh, il Dio, come l'elefante per la buona fortuna. Quando noi cominciamo il lavoro nuovo, la costruzione, sempre, il Dio è il Dio di Ganesh.